Non ti fa male con la bomba ma eh? Ahahahah E' cosa? Ecco il mio gioco E' cosa che è? Vabbè, il solito è sempre una pizza scambi Secondo me è sempre il primo Secondo me Aspita che avendo un'ottocchina E' un'ottocchina, non lo paga, non lo mette non so Ma cosa fa a te? E' bello a dirmi a si a A dir come a me è con questo la te Ma adesso A che c'è il mio Ma se E' un vecchio Però Eh Certi Il mio E Il mio Il mio Il mio ma se stanno mai lavorando ma che fatti che tu vedi da me ma che infatti che tu vai da me e ti accendi ma in particolare mi preferisci un consiglio che la s'ha dedicato a cioccolare con la margina e con il candeo di nostrasse e anche il pacacapato si, hai fatto un'altra, hai il cuscoletto se la fare la rosia da mia amica se ne vai tu , in quanto sei, il spesso di te hai tanto che mi sarei in canale sai come me? le sono un mare da polva se ne vantaccelo a te ho sopporto fin l'esame se ne vantaccelo a te non faccio la cosa, non faccio la cosa è quanto ti è e quanto ti è